Il farmaco equivalente per uso veterinario ora è realtà. Il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato il decreto che riconosce la possibilità di prescrivere un medicinale per uso umano che contiene lo stesso principio attivo di quello veterinario, sulla base della migliore convenienza economica dell'acquirente. Era una richiesta che è un'istanza che è stata avanzata da tutte le associazioni, in primis dal 2006 e supportata anche da tanti consiglieri comunali, regionali, dai cittadini stessi. Perché? Perché effettivamente aiutare i propri animali e tutelarne i diritti della salute è fondamentale perché si mette nella possibilità di poter curare i propri animali anche con patologie gravi e con farmaci che possano agevolare la salute dell'animale stesso senza dover incorrere in spese costose, in costi troppo alti. Siamo soddisfatti, è una grande vittoria, è una vittoria per loro, per i loro diritti perché loro non hanno una sanità pubblica quindi le spese per curarli sono altissime. Quindi questa è una prima battaglia vinta. Adesso spero che si prenderà anche in considerazione l'IVA in merito ai ricoveri anche presso i studi veterinari perché al momento l'IVA è del 22% quindi io spero che sia il primo passo. Ma cosa ne pensano i veterinari? È vero che il farmaco veterinario rispetto all'equivalente umano costa di più è pur vero che il farmaco veterinario rispetto al farmaco umano a parità di principio attivo ha delle caratteristiche diverse che riguardano in particolare la somministrazione quindi la posologia del farmaco e anche l'appetibilità. E poi parliamo anche di un altro aspetto importante che è la posologia cioè riuscire ad avere una formulazione di farmaco disponibile, biodisponibile per un gatto o per un cane di un chilo o per un gatto o per un cane di 40, 50 o oltre per avere questo c'è bisogno di varie formulazioni che vanno a coprire tutto il range cosa che in umana chiaramente non c'è. Ci dovranno essere delle spiegazioni e delle delucidazioni molto più accurate non legate solamente al prezzo o al costo di una terapia perché quello sì è un aspetto importante in particolare in questo periodo però è vincolante molto su tanti altri aspetti che invece non vengono considerati almeno per il momento.